Buongiorno a tutti, sono il dottor Cevenini, ho il piacere e l'onore di ospitare presso il mio studio in occasione del congresso internazionale dell'associazione la chirurgia in diretta che verrà eseguita dal professor Lungren assieme al dottor Ciabattoni. Si tratta di un caso molto bello, complesso, si tratta di una paziente giovane, una paziente di poco più di 40 anni, fumatrice e dentula nell'arcata superiore già da parecchio tempo, portatrice di protesi ammovibile, di protesi totale. Nell'arcata inferiore gli elementi residui hanno problemi parodontali ma complessivamente al momento chi ha pianificato il caso conta di mantenerli e se ci sarà modo verranno inseriti anche quattro impianti nell'arcata inferiore. Vediamo le radiografie, l'immagine radiografica del caso che verrà trattato. Vedete che rimane una quantità di osso ben rappresentato, verranno alloggiati otto impianti e su questi otto impianti verrà fatto un carico immediato, quindi otto impianti con chirurgia guidata, carico immediato e protesi fissa che verrà poi avvitata successivamente sugli impianti. Adesso lasciamo che gli operatori possano cominciare il loro lavoro. Grazie a dopo. Ok, and then we wish you all welcome to this surgical session, starting with the maxilla and the guided surgery and then we will see. Ok, so then we start with… Sono acceso anch'io? Ok, buongiorno a tutti. Allora, possiamo partire con l'inquadratura della parte della paziente… Legal eyes… Black bowlie… Oh… Global… Paracolata… Nanc… c'è già l'indice… Exact… C… Bastante… Historic. Ruuu… Truca… Ci spiello, in posizione… Gen assum 800 CT… Puissance… Ok, tos Cart great… lonely… Ma… … non vale righezziato allora, il più unico di questo è un'ottima di questo allora, procediamo alla situazione con i pin vestibolari questa procedura è molto critica qui, va bene apri pure un coletto apri grande 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 apri i piccoli nel palato useremo i pin corti per evitare interferenze con le guide ok, incrocio, perfetto ok, ora abbiamo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è prepara il pezzo non c'è 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 ok ok ora, prepara un'ottima di controllo ok non c'è non c'è che and you know jumping up and down with a drill is a good way to take the cooling water down oh 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 ok oh 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 10 e 13 inseriamo il secondo impianto, partiamo sempre da reverse grazie a tutti 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 grazie a tutti